Allora, generale, 150 anni di storia, un legame che chiaramente ha anche molti contatti con la città di Bolzano. Sicuramente, a partire da questo palazzo che dal 1935 rappresenta un'istituzione di carattere militare e dal 1952 è sede di quello che rappresenta il comando delle truppe alpine o allora corpo d'armata alpino. Ecco, perché questa decisione di aprirlo al pubblico? Semplicemente perché in occasione di 150 anni vogliamo ricordare la storia degli alpini, fare memoria e quindi essere sicuri che valore, tradizione e giustamente tutto quello che è stato fatto in termini più che positivi dagli alpini venga tramandato nel tempo. Il messaggio che ancora oggi gli alpini portano avanti qual è? Beh, se ci rifacciamo qualche motto ne esistono tanti. Io credo che il migliore sia quello che appartiene agli alpini parautisti, un'unità che non fa più parte delle truppe alpine, di cui io personalmente ho fatto parte, che è Maistrack. Una forma dialettale comune a tutti i dialetti del nord che significa mai stanco. Quindi sempre andare avanti, sempre conseguire l'obiettivo che ci sia ai posti.